Fin qui stanno disputando un'ottima stagione, il traguardo promozione sembra alla loro portata. A livello leggenda non si può sbagliare per andare a leggendolo Gini a vincere e superare il più difficile ostacolo in questa divisione. Fuori casa Dimo sempre vinto, speriamo di mantenere questa media. Avanti ragazzi, alla grande. Ci siamo, possiamo cominciare. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. L'allenatore si affida a due elementi dalle spiccate capacità offensive per supportare l'unica punta di ruolo ed è dunque 4-3-3. Ho l'impressione che i difensori... Un pallone filtrante, guadagna metri verso l'area. Interrompono bene l'azione. Welbeck Runei Ecco la grande occasione che dovrebbero avere. All'interessante dello spazio Il destro è cazzo! E' un gol che preme i loro sforzi, il loro gioco. La loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato. 1-0 Nell'aria si respirava già da diversi minuti. Ed ecco che è puntualmente arrivato. E' arrivato il buco e bravissimo Oxlade a metterlo sotto l'incrocio. Gran gol. Ecco il tocco e poi l'incrociamento cronologico. 1-7 Ma comunque sia importante che sia entrata dentro. Adesso c'è... Occhio al tiro. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Poteva essere il pari. E' vero. È perso una gran occasione. Ma assolutamente inesistente in questo momento. Palla nuovamente in possesso. Baragna metri. Dai ragazzi siete molli. Lo script è a favore della Dynamo in questo caso. Non a favore nostro. Infatti stiamo subendo notevolmente. Cerca il cross. Basso. Non ne usciamo ragazzi. Continuiamo subire. Ma spazio per andare? La traiettoria verso il centro. Buono l'anticipo del difensore. Occhio al contropiede. Morata. Morata. Si porterà più due con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Grande gol. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi a sciaretti. Che sfrutta al meglio l'unica chance del secondo tempo. Cinico e spietato. Perché praticamente su quasi l'unice non si rinporta per due gol. Altro gran gol. Altro gran gol. Bello nel 7. 2 a 0. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2 a 0. Adesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Martial. Runei. Ci sono metri a disposizione. Lo ferma ma non controlla. Prova a pressare. Ha spazio. Prova. Bene gol. Welbeck che gol ha fatto ancora. Grande potenza. La palla si è insaccata proprio sotto la traversa. Tre tiri sotto l'incrocio dei pali. E questo l'ho provata così tanto per provarle. E dove l'ho messo ragazzi. E l'esperienza fa la differenza. I 14 anni di gioco si vedono. Non era per niente una conclusione semplice. Ma se l'è cavata è finito. Gran gol. Sì il portiere è forse un po' sorpreso ma non era facile. Ora quest'altra colazione. Con questa ratio. Wilshire. Runei. Buona rituizione qui. Palo attenzione però è ancora buona. Ragazzi. Che tigliero che ho fatto con il Valle. L'arbitro dice che può bastare. È finita comunque una vittoria spettacolare. Bellissima. Meritata. E con questa vittoria completa con un uffidabile filotto. Iniziamo a salvarci. L'obiettivo è stato raggiunto. Adesso bisogna puntare alla promozione. Che è l'obiettivo più complicato. Bisogna continuare a vincere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.